Sarà l'edizione più larga di sempre, con 700 espositori provenienti da 25 paesi, 2500 cavalli in vetrina e tanti eventi, tra cui spicca la gara di Coppa del Mondo di salto ostacoli. Fiera Cavalli prepara la festa per l'edizione numero 125, in programma a Verona Fiere dal 9 al 12 novembre. Un occhio ai mercati, l'altro alle nuove tendenze, partendo dal binomio turismo-territorio. I numeri sono molto importanti, parliamo di 700 espositori che provengono da 25 paesi del mondo, di un'economia che qui trova il proprio riscontro in termini non soltanto sportivi ma anche in termini commerciali, quindi è il momento principale dal punto di vista del business, dello scambio per coloro che operano in questo settore e a questo panorama noi contribuiamo anche con un incoming di 25 delegazioni che provengono dai principali mercati di sbocco di questa economia, europei ed extraeuropei, e che quindi vanno a completare un'offerta merceologica e dispositiva che in questo momento non ha uguali in Europa. Abbiamo voluto affiancare alla proposta espositiva un nuovo salone, un salone dedicato al turismo rurale e ai prodotti tipici, che è una naturale conseguenza di quello che si vede e che offre questa manifestazione. Il mondo del cavallo rappresentato a 360 gradi, passando dall'allevamento agli ippodromi, dall'ippoturismo allo sport. Oltre 60 razze in mostra tra gare ed esibizioni. Più che un viaggio nel mondo del cavallo sarà un'esperienza, sottolineano gli organizzatori, che aspettano la visita di tre ministri. Spettacoli, eventi, show dimostrativi per tutti i gusti, per i più giovani, per i ragazzi, per le famiglie, e poi gare e competizioni, organizzate dalla FISE e domenica, la gara di Coppa del Mondo di salto ostacoli, dove i più grandi, i più importanti cavalli, campioni, amazzoni, cavalieri del mondo, si sfideranno nell'unica gara italiana organizzata dalla Federazione Equestre Internazionale di Coppa del Mondo. E poi anche una grande attenzione da parte delle istituzioni, saranno presenti tre ministri, il ministro dell'Agricoltura inaugurerà la manifestazione feristica, poi il ministro del Turismo e il ministro Abodi, con focus importanti sul mondo dello sport, sul mondo del turismo, dell'ipoturismo, e poi sull'allevamento e anche sugli ipodromi. Nuove idee anche sul sociale, dove l'impegno cresce, il cavallo diventa veicolo di attenzioni e qualche volta si trasforma in medicina. Continuiamo a rinnovarsi, ma continuiamo a prestare molta attenzione al benessere del cavallo, che di conseguenza è anche il benessere del visitatore e del cavaliere. Quest'anno siamo partiti con questo nuovo progetto che si chiama Horse Safety System, che prevede appunto il fatto che il visitatore possa interagire con il mondo del cavallo, ma in totale sicurezza sia dell'animale che da parte del visitatore. Particolare attenzione anche a molti progetti relativi alla sociale, diciamo che l'anima sociale di Fiera Cavalli è nel DNA di Fiera Cavalli. Sosteniamo anche quest'anno il progetto Riding the Blues, che è un progetto che mira a utilizzare l'ipoterapia come trattamento dei sintomi da parte dell'autismo. L'anno scorso con questo progetto sono stati raccolti fondi per 30.000 euro, con i quali abbiamo fatto una ricerca su 100 bambini trattati con l'ipoterapia, che quest'anno presenteremo proprio durante Fiera Cavalli. e chiederemo appunto che, con l'obiettivo appunto, che l'ipoterapia sia riconosciuta dal sistema sanitario nazionale come appunto cura e trattamento di questi sintomi. Sul piano sportivo, Fiera Cavalli ha conquistato il titolo nobiliare, con la gara di Coppa del Mondo entrata nell'aristocrazia del salto ostacoli. Una tappa che seduce i grandi campioni della disciplina, tutti i top ten hanno confermato la loro presenza. Senz'altro una 125esima edizione che si ricorderà, perché comunque abbiamo ricevuto ora gli ultimi cavalieri iscritti, i cavalieri internazionali iscritti, abbiamo la top ten al completo. Quindi insomma è un evento di altissimo spessore sportivo, con i migliori cavalli e i migliori cavalieri del mondo, che si sfideranno appunto in questo padiglione fantastico, che quest'anno avrà anche ulteriori, diciamo, ampliamenti. Abbiamo completato anche l'ultima curva mancante, quindi diventa un vero e proprio stadio che ospiterà appunto la magnificenza dell'equitazione mondiale. Non solo i campioni affermati, nel nuovo stadio di Verona Fier vedremo anche tanti giovani delle gare fise, promesse per il futuro, orgoglio della federazione. Siamo veramente felici di poter presentare questa 125esima edizione della Fiera Cavalli, che vede il cavallo al centro del nostro mondo, il cavallo della nostra grandissima passione. E Fiera Cavalli ci offre anche una tappa di Coppa del Mondo della disciplina del salto ostacoli, che è veramente un appuntamento imperdibile. Ci sono i migliori cavalieri del mondo che si confronteranno. Nel padiglione 8 e poi nel padiglione 5 c'è l'Arena Fese, che è tutta la filiera nazionale, tutti i giovani della nostra filiera sportiva, che faranno le loro finali nazionali. E quindi sarà veramente una fiera allegra, divertente e piena piena di gente. Tutto pronto dunque per i 125 anni di Fiera Cavalli, un rito che si compie dal 1898 e che Verona celebra con un annuncio che sa di omaggio all'amico cavallo, la prima ipovia cittadina in Italia. Siamo la prima città in Italia che creerà delle ipovie. Ci saranno tre percorsi diversi che potranno far sì che le persone che non sono di Verona conoscono Verona, ma anche i veronesi, di poter accedere a luoghi con una modalità diversa. Sicuramente è un'iniziativa che porterà i suoi frutti quel tempo, perché per ora, ripeto, è stata una proposta anche legata al fatto che la città di Verona ha comunque un aspetto di attrazione internazionale. E credo che sarà un ulteriore modo anche per rivalutare alcuni spazi, luoghi di Verona magari nascosti ai più.